Prima di scoprire cosa è successo a Carolina Marconi, desideriamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie. Carolina Marconi ha recentemente condiviso un lungo post su Instagram che è diventato rapidamente virale. Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento. Dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. Così inizia il post di Marconi, dalle sue parole emerge la serietà della situazione. Come sappiamo, a Carolina è stata diagnosticata una neoplasia al seno, ma ora sembra che ci siano ulteriori preoccupazioni per la sua salute, poiché è stato trovato qualcosa al fegato di cui non conosciamo ancora l'entità. La Marconi ha continuato a spiegare la situazione. I risultati sono usciti, mammografia, ecco ok ma nell'attacca c'è qualcosa al fegato, non c'è mai pace. E quindi dovrò fare un'altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri, quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano. Sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout. Ancora due settimane con il punto interrogativo, poi io sono un soggetto ansioso ma come farò? Dopodiché, l'ex Vippona è andata avanti, dichiarando di voler rimanere positiva e di non voler trarre conclusioni affrettate. Infine, ha ringraziato tutti i suoi seguaci per il sostegno e la forza che le danno. Bisogna mettersi l'anima in pace, aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla, è dura, durissima. Le mie paure, però, non devono essere più forti del mio inconscio. Ora penso solo a stare bene, lavoro, dipingo, metto in ordine casa, il giardino, cucino, mente libera. Inutile stare lì ferma nel letto a piangere. Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni. Quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza. Grazie, vi voglio bene. Carolina ha subito ricevuto il supporto e l'affetto di tantissime persone, che sono accorsi a commentare il suo post per poter lasciarle un sostegno. Anche diversi personaggi dello spettacolo hanno voluto lasciarle un messaggio di affetto e solidarietà. Tra questi troviamo l'attrice Milena Miconi, l'ex geffina Gwendalina Canessa, la showgirl Juliana Moreira, Carmen Russo e la sua ex coinquilina del grande fratello VIP, Antonella Fiordelisi. Dunque, bisognerà attendere ancora due settimane per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute di Carolina Marconi, la quale poi deciderà se condividere quanto ha preso con il resto del pubblico o no. Siamo tutti vicino a Carolina in questo momento difficile. Fai sentire anche tu la tua vicinanza con un bel commento sotto il video. Grazie.